se lo dico veramente con grande forse troppa vemenza scusami prezzo no 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 20 tipo con 20 euro vado dal parrucchiere mi faccio tagliare capelli peli del cazzo e peli sul petto credo e credo mi faccia anche una segala tipo alla cassa cazzo scusa no non sto esagerato però 20 euro per quella merda scusami ma è bella ma no insomma mi conosci in che contesto mi hai conosciuto in contesto di scamaderna e le dirette amica tu ti costruisco una volta nelle mie dirette ma ti ho detto che sapevo già cosa facendo e si è uscito ah e quindi non ho creduto in te non hai creduto in me non ho creduto nel tuo potenziale sono veramente un coglione quanti anni hai se posso chiedertelo? sono 2006 e ho 14 un saluto forse era questo il motivo ti no un grande rispetto eh ti mando un abbraccio però ti auguro che tu possa crescere il meglio possibile ciao stai fumando ma che cazzo succede a questo mondo scusami un saluto ciao 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 va bene sì di base va bene me l'aspettavo se devo essere onesto con voi non l'avrei messo no volevo sottolineare che la mia squadra è una squadra un po' del cazzo quindi ok secondo me è vera no no io sono contro l'evasione fiscale saluto a Stephanie alla nostra realtà grazie per i beat cazzo non sei ancora un F veramente F F F F F Nico Gamer lo sai tua madre che cosa fa quando tu non ci sei? eh? lo sai cosa fa? te lo dico io cosa fa? te lo dico io cosa fa? vuoi vedere sotto le mie palle? eh? grazie al Felix chiudo scusa no sono molto competitivo e io in realtà voglio molto bene ciao il prossimo che si sub è un coglione JustFox sei una merda no all'inizio sono un un po' strano sono un ho sbagliato ho perso ho perso proprio il momento ho perso il momento devo cagare non mi scappa ho perso il momento ho perso il momento grazie Riccardo Salt per la sub per aver finanziato la bestia che sono grazie Bender buonasera buonasera sono qua sono qua come state ragazzi? grazie Bender grazie mille grazie mille dei cento veramente un brother posso dirlo? posso dirlo? dimmi niente ok allora io adesso entrerò nella diretta di Flavia e tu dovrei dirmi il mio metodo d'approccio ok? ma se Flavia già ti conosce no vabbè ok però io mi posso posso visto che l'ho sempre un po' mezza frienzonata posso cambiare questa è mia nuova vabbè è uno showman lo showman può anche cambiare idea può anche questa è mia nuova che succede? beh lo showman può cambiare può cambiare può adagiarsi agli allori wow può adagiarsi agli allori ma vabbè allora devi dire dimmi scusa no no comunque ho preso un botto di cose veramente veramente figlio ok va bene tipo ah li vogliamo far vedere ah li vogliamo fare un piccolo owl però è aperta perché è aperta? hai detto hai detto te stesso? cosa? hai detto me stesso? no una merda una merda una merda cielo o cielo? cielo cielo ce l'ho aperta ok come ce l'ho? cielo ah no mi prendo le distanze margini non ho capito tenda 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 sai che vado sempre in tenda mi faccio una sega in tenda sporro sull'albero della vita ora lo sai che non posso fare queste rime perché sai che mi fanno vado nella tenda arriva un orso polare gli metto il cazzo nell'ano sì no no non voglio fare niente con gli animali ma ho avuto sempre la perversione di mettere un cazzo in bocca agli squali mi chiedo a fare un punto quindi sono contento Rubino e Natalia sono a zero punti quindi per quanto mi riguarda Natalia chi? lasagna Rubino e lasagna ma lasagna capito Natalia io no no ho detto lasagna anche io ho capito Natalia no avrà detto Natalia sicuro no sì 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 mamma mia me clippate per voi mamma andate no no ho detto lasagna sicuro io non l'ho sentito io sono abbastanza tranquillo ti piacciono i miei pantaloni? belli 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 hanno stile sì mi piace grazie grazie belli belli ho già fatto shopping cosa hai comprato di brutto? un po' di bello scusami no perché di solito sono abitato a parlare con con? no niente no dimmi scusa no no comunque ho preso un botto di cose ma cosa carica sta puttana scusate ma perché non va? alexa giochiamo ad Akinator ciao mi chiamo Akinator so leggerti nel pensiero pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo pronti a partire? sì il tuo personaggio indossa vestiti femminili? no il tuo personaggio è nato in Italia? sì mi dispiace ma non ho capito bene ma porco di gas il tuo personaggio è nato in Italia? sì ma Alexa ma come stai? ho provo con le parole ma in realtà vado molto bene coi fatti io le parole le utilizzo solo come contorno di un quadro che viene colpito a suon di cazzi in faccia carino chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa davvero volevo essere bravo con le parole ma in realtà vado molto bene coi fatti io le parole le utilizzo solo come contorno di un quadro che viene colpito a suon di cazzi in faccia è un po' esagerato se sai che la mia tipa si chiama segweteria telefonica quando chiamo sto tipa c'è sempre la segweteria telefonica al cellulare spento sento la segweteria telefonica la mia tipa scatta sempre come la segweteria telefonica quindi segweteria segweteria telefonica la segweteria segweteria telefonica sai che la mia tipa si chiama